Nato alla Spezia, nei primi anni 30 si trasferì a Firenze per studiare medicina. Appassionato di spettacolo, partecipò ad alcune recite studentesche organizzate dai GUF Teatro Sperimentale, che nel capoluogo toscano gli consentirono di esibirsi come fine dicitore ed interprete brillante. A seguito di questa attività, Rimoldi vinse un concorso alla radio come annunciatore e cronista, mettendo in luce oltre alla sua prestanza, la sua fotogenia ed il suo volto accattivante. Anche un buon timbro di voce, verso la fine degli anni 30 interpretò i primi film della sua carriera, arrivando a un ruolo da protagonista nel 1940 in Addio Giovinezza. Per la regia di Ferdinando Maria Poggioli. Film che ottenne un clamoroso successo imponendo rimoldi all'attenzione del pubblico e della critica. Negli anni seguenti ottenne diversi ruoli di protagonista in numerosi film di Cappa e Spada, in cui la sua baldanza e la sua agilità lo collocarono. Accanto a Massimo Serato, Leonardo Cortese, Amedeo Nazari, Rossano Brazzi e Roberto Villa, Tra i divi più ricercati del genere, lavorò prevalentemente con Corrado Del Rico, Capitano Tempesta, Il Leone di Damasco, La Compagnia della Teppa, ma anche con Mario Soldati, Tragica Notte, e nel 1942 con Dino Falconi. Don Giovanni, fu però con Vittorio De Sica. I bambini ci guardano, che nel 1943 riuscì ad ottenere il suo primo ruolo drammatico, interpretando l'amante di Isa Pola e ottenendo consensi lusinghieri da parte della critica. Sino a quel momento molto tiepida con lui. Il suo nome apparve frequentemente anche sui cartelloni di importanti compagnie teatrali. Durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana, Rimoldi riparò in Spagna per poter continuare la carriera senza subire contraccolpi. Divenendo uno dei divi più apprezzati del cinema iberico. Tornò in Italia verso la fine degli anni 40. Senza però ritrovare il ruolo di protagonista nel cinema. Lavorò con registi quali Fernando Cerchio, Carlo Campogagliani e Flavio Calzavara. Nel 1951 ebbe inoltre la soddisfazione di prendere parte al film Atollo K. Con Stan Loreley Oliverardi oltre ad interpretare Melchiorre nel Colossali Re dei Re. Tornò al teatro brillante nel 1952 con Gran Baldori e Di Garinei e Giovannini. Che lo vollero anche in La Gran Duchessa e i Camerieri. 1956. Dove recitò accanto a Riccardo Billi. Mario Riva. Vanda Osiris e Diana Dei. Con la quale fu apprezzato protagonista di un memorabile duetto. Fu inoltre partner di Isa Miranda nel 1955 in Albertina. Di Valentino Bompiani. Messo in scena da Italo Alfaro. Recitò anche per la neonata televisione. Seppur con poca convinzione. Ma dove ebbe modo di cimentarsi anche con l'operetta. Wonder Ball per la regia di Daniele Danza. Fu attivo sino al 1963. Anno in cui interpretò gli ultimi film ed in cui apparve in televisione nel dramma di Clifford. Odez notturno a New York. Ma scomparve prematuramente nel 1965. Rimoldi era il padre della fotografa Donatella Rimoldi. Moglie del critico Nico Garrone. A sua volta madre del regista Matteo Garrone.